Stavo su a piaggia, a tonda, a sughera, queste zone qui. Sono nato lassù, la comune di Montaiglione. Poi ero anche l'anno, ero 76. E poi mi ha tre tartufi, ho corso un fine a pochi anni fa. Anche quando non c'è tartufi buoni, anche in mattina vedi una bicicletta, perché c'è tanta chilometri, tanto per fare. Aspetta, qui non si può fare un paragone. Tartufo è l'utile e il divertente. Ci sono due cose, bicicletta, c'è il divertimento e basta, è tutta una spesa. Io conoscevo Simone quando voleva andare in bicicletta. Io sono da 76, avevo 10 anni. Sì, tu mi stai... No, 85, 86. Eh, mi ricordo quando tu papo mi piaceva la bicicletta davvero un prago, io ero. Finché, quanti anni ti stivano usciti? Sì, 34, 35. Io prendevo anche, facevo il bicicletto, quattro anni dietro, tutto è buono di lavorare alla casa, perché si fa tutto da noi. E così era da bambino, da ragazzetto, dieci anni. Perché io avevo paura di andare solo in bosco. Allora andavo il mio fratello in due, ci si faceva foraggio. E mamma mi diceva, oh, stai già il pallone, prendi il cane e balla su alla finestra, e guarda troppo un po' di marzoli si fa una frittata. Un'altra sera che si mangia? E buoni no, buoni si vendevano. E ce le pagava, a quei giornini, me ne ricordo, duemila lire il chilo, duemila lire il chilo. Trovate un etto di artufi, noi, ero duecento lire, a duecento lire, a quei giorni, e passavamo, perché noi il macello, la domenica mattina, passata uno con la lambretta e ci portava la carne. La domenica, eh, si prendeva e mangiava i, e prendevi il lesso, la mia mamma, col camidesso, come a mangiare? Avevi i conigli, i polli? Sì, quelli servivano per vendere, per comprarci le scarpe, i vestiti e tutto. I cani sono tutti cani, però con la C maiuscola, un tartufaio è andato una vita, è andato 60 anni e più a tartufi, ce ne saranno due o tre. Sì, mi piange il cuore, i meglio cani li ho vendetti perché dovevo andare a lavorare a Ravenna, quando lavoravo a Enturi, l'azienda è chiusa e vendetta una roba, e dovevo andare a Fusignano a lavorare. Era una agna, spettavolare, cacciava anche tutto il fatto che aveva trovato tutti nella neve la agna, nella neve, buttava per andare alla neve come un coso. Era una signora che i cani invia a cacciare, in meglio periodo i cani è come l'omeni, no? Quando è in meglio periodo un uomo? Da 25 a 35 anni è il massimo rendimento un uomo. E così i cani, i cani in meglio rendimento gli è da 5, 6, 7, 8, 9 anni. Questo è il meglio rendimento di cani.